A diecent'anni che c'era la posta, adesso l'hanno tolto, perché... La comunità di Sant'Anna, storica frazione di Caltabellotta, ha protestato stamattina contro la soppressione del locale ufficio postale. I cittadini hanno impedito agli addetti dell'ente posta di smantellare l'ufficio prelevando computer ed altre superlettili. Di fatto però l'ente posta e l'ufficio lo ha già chiuso il 12 novembre 2012, annoverandolo tra i cosiddetti rami secchi da tagliare. Da allora ben 400 persone, tra pensionati o titolari di conto corrente, per una normale operazione, per gli anziani quella di riscuotere la pensione, sono costrette a raggiungere Caltabellotta. Ne è scaturito un ricorso al Tribunale amministrativo regionale, la cui sentenza però tarda ancora ad arrivare. Almeno fino a quando i giudici non si saranno pronunciati, tuttavia i sant'annesi non vogliono che l'ufficio venga smantellato. Vogliamo far sapere che ben 400 tra pensionati, titolari di conto corrente, titolari di debetto di deposito, sono costretti ad andare a Caltabellotta per riscuotere la pensione, per pelevare anche le 50 euro, per spedire una raccomandata e tutto il resto. Ma è anche una scelta che deriva da una violazione, ben precisa e per questo abbiamo fatto un ricorso al TAR, da una violazione del decreto Scaiola del 2008, che prevede per realtà come Sant'Anna che ci sia almeno uno sportello che sia al servizio dell'utenza. Basti pensare che nel caso in cui il cittadino non si trova in casa allorché passa il postino per dare la raccomandata, deve recarsi all'ufficio di Caltabellotta per ritirarlo. I cittadini di Sant'Anna oggi non hanno citato a protestare. L'ufficio postale di Sant'Anna funzionava bene? Lavorava benissimo, lavorava a tutti gli effetti, io abito di fronte quindi vedevo il movimento che c'era, venivano pure da fuori, da Caltabellotta, di Ribera, da tutte le parti, partivano puntualmente pacchi, cioè lavorava bene, non abbiamo capito, infatti non credevamo alla chiusura di questo ufficio postale. Oggi a Sant'Anna c'era anche il sindaco di Caltabellotta, Calogero Pumilia. È una protesta contro una scelta scellerata che tiene conto solo di dati finanziari, peraltro contestabili anche quelli, che tradisce la missione delle poste, almeno sul versante, del dovere di assicurare il servizio universalista e quindi di garantire anche la frazione di Sant'Anna, che è contraria alle disposizioni ministeriali che parlano dell'impossibilità di chiusura di punti delle poste che distano più di sei chilometri da altri punti delle poste. È una protesta che viene dai cittadini, che è organizzata dai cittadini, rispetto alla quale l'amministrazione comunale dà il massimo sostegno. Grazie a tutti.